Abbiamo disarmato anche i tre apparecchi nel campovolo una notte, però prima di farli saltare abbiamo smontato le tre mitragliatrici, la 7-7 famosa, che era una mitraglia potente, cioè anti-R. E lì mi erano bullonati sul cuscinetto per girare, sul cuscinetto le abbiamo smontate, poi dopo abbiamo dato fuoco agli apparecchi, tutti e tre. Le mitragliatrici senza treppiedi, Fiorello aveva fatto lui, lui lavorava, era molto bravo a lavorare di meccanica perché lavorava in via Toschi da bagni che faceva le bilanci, le fabbricavano, le aggiustavano, allora c'erano queste ufficinette che lavoravano. E lui era molto bravo. Infatti quando hanno portato a casa uno, l'ha fermato la brigata nera vicino al cimitero in via Ceccati, dice cos'è quell'aggeggio lì? E dice questo è un treppiede che devo portare al caseificio a San Bartolomeo, dice che per una scrematrice, per il siero che dopo aver lavorato, fatto il formaggio, fanno dei travasi. Va bene, va bene, vai, vai. E lui aveva due rivoltelle addosso. E dico, Fiorello se ti perquisivano, facevo il tuo mix. Si scrozzava così a quei tempi.